Stop all'erogazione idrica nelle zone H24 per il martedì 5 maggio. Non ci sarà l'approvvigionamento al serbatoio San Giuliano per poter ultimare la posa delle nuove tubazioni in acciaio all'interno del serbatoio stesso. I lavori inizieranno alle 8 del mattino e dureranno dalle 6 alle 8 ore il tempo stimato. Al termine sarà immediatamente riattivata la fornitura del serbatoio. Dunque martedì 5 maggio nessun approvvigionamento nelle zone servite H24 tranne l'ospedale, il carcere e la ferrovia.